Sono qua, mi vedi? Ascoltami, guarda tu stesso Io prendo le carte Ah, intanto ti faccio dire che io uso carte regolari Se ne pensi Io prendo le carte e le mescolo, vedi? Questo è importante, questo si chiama Il pensiero, non so se lo hai visto Ok, mescolato, giusto? Ora, io posso tutto Che non pensi che c'è ordine Tutto mescolato, giusto? Ok, adesso Io prendo così le carte Taglierò in un punto a caso A caso, completamente a caso Libero Prenderai la carta, io non voglio vedere niente Ok, questo è importante, quindi Guarda tu stesso Taglia, giusto? La vedi? Questa carta è giusta? Giusto? Ho chiuso tutto? Ok, io non posso sapere mai e poi mai la carta Sei d'accordo che la tua carta, sicuramente, questo è ovvio Sarà dentro a qualche parte, giusto? Nel mazzo È ovvio Ma non sappiamo dove Ora prendo le carte e le mescolo Guarda tu stesso Vedi? Tutto mescolato Completamente Si nota Tutte carte diverse, eh? Tutte carte, giusto? È mescolato Porti che è una cortesia Proviamo a fare una cosa Che veramente è incredibile Arriva la sensazione Io sento che in questo Questo gruppetto qua Questo gruppetto qua C'è la tua carta Vuoi la prima? La seconda o la terza? La terza La terza Che carta era la tua? Due di cuori Di cuori o di quadri? Di cuori Sei sicuro al 100%? Sì Ah, Riccardo, Enricchi, sei sicuro? Qui non è parte, è due di cuori Non è il due di quadri, Riccardo, la tua carta No, è il due di quadri, non c'è molto Non c'è problema, tanto sto registrando tutto Sto registrando tutto, ridati Così lo vedi in altre rifinzioni Se si vede bene da me Perché si vede abbastanza bene Eh, davvero un taglio Non lo so Eh, sì Non si vede No, non ti puoi fare Tu vedi tutto bene Questo è incredibile No, no, sicuramente è ragione di quadri Sì, fidati È incredibile È incredibile anche questo Perché io non posso mai sapere la carta Perché io sono Forse anche bendato volendo, capisci? Guardi che ho un'altra cortesia Guarda tu stesso Dimmi una carta che ti piace Una carta che ti piace Mi piace se mi vuoi Quella che vuoi tu Dieci di cuori Come mai? Sono un tue particolare No Perché ho fatto un gioco E mi piace Ah, ok Tipo, va bene Sì, sì Ok Io mesco le carte, vedi? Sì Dammi un numero Un numero Uno 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 Sicuro? Ok Ora stai attento La prima carta La numero uno È il numero di carte Che sposterò esattamente da sotto Ho numero quattro Qui toglierò quattro carte Uno Due Tre E dopo quattro carte C'è la tua carta Un dieci Interessante Interessante Ma se io ti chiedessi un'altra cortesia Riccardo Facciamo una prova Vediamo se riesci Ok? Dimmi un'altra carta che ti piace a te Quella che vuoi tu Quella che vuoi Quella che ti piace Dimmi, dimmi la carta Riccardo Niente Ci ha abbandonato Riccardo Vabbè Sardiamo il tutto Perché sennò Poi perdiamo il tutto E non vorrei perdere tutto E sarebbe un piacere Conoscerlo Veramente Di cuore